Foto gentilmente concessa da ufficio stampa Mediaset. Grande Fratello VIP parte col televoto tra i quattro ex concorrenti del Grande Fratello tutto pronto per il ritorno del Grande Fratello VIP. La quarta edizione del noto reality show partirà con un doppio appuntamento, mercoledì 8 gennaio e venerdì 10 gennaio. A pochi giorni dalla prima puntata Bloggo ha rivelato alcuni interessanti retroscena sul gioco. A quanto pare si partirà subito con un televoto, che decreterà il futuro dei quattro Highlander del programma, ovvero gli ex ceffini Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Larichia e Patrick Ray Pugliese. I quattro non staranno almeno inizialmente con il resto del gruppo e occuperanno una zona ad hoc della casa. Il pubblico dovrà decidere chi due quattro potrà entrare in gara a tutti gli effetti, solo due potranno diventare dei veri e propri concorrenti del GF VIP. Torna il tuburio al Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini. Tra le altre novità del Grande Fratello VIP 4 pare ci sia il ritorno del tuburio, la faticente stanza che tanto ha fatto divertire nelle passate edizioni NIP. In più sembra che ci sarà una nuova stanza allestita come gli anni 80, in cui i concorrenti si dovranno tuffare proprio in quel decennio. Insomma un po' come accade già il collegio, docu-reality di Rai 2. In attesa di saperne di più sono stati svelati i primi 19 concorrenti del GF VIP, che formano un cast interessante e variegato. Chi sono i concorrenti del Grande Fratello VIP 2020 al Grande Fratello VIP 2020 parteciperanno, oltre agli ex quattro geffini, l'attore Andrea Montavoni, la modella Fernanda Alessa, l'attore Fabio Desti, l'attrice Licia Nunex, lo sciomane Antonio Zecchila, l'egittologo Aristide Malnati, la web influencer Clizia Incorvaia, la modella Paola Di Benedetto, la conduttrice Adriana Volpe, il giornalista Michele Cucuzza, il giovane Paolo Ciavarro, l'ex emis Italia Carlotta Maggiorana, la produttrice Rita Gusec, il cantante Pana, la sobretta Antonella Elia.